salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di minigame su minecraft siamo in compagnia di un carissimo amico mike wanted 18 a ragazzi a lui è collegato anche insieme a me che su ts quindi possiamo parlare insieme ed è divertente farlo in due lui anche lui un canale su youtube quindi invito a visitarlo è un canale in crescita come il mio quindi ci facciamo forza a vicenda il tuo un po più in crescita del mio però diciamo però piccole differenze piccole differenze noi siamo qui ad aspettare altri players per poter iniziare questo minigame penso che qualcuno di voi già lo conosca perché l'ho portato in passato sul mio canale e si tratta di lanciare bombe e distruggere il nemico non c'è cosa più figa di questo adesso ho scoperto come si gioca perché non si lanciare bombe devi solo lanciare il tnt però qua vedo che ci sono poche persone abbiamo scelto il colore abbiamo scelto tutto da questo che sta casteggiando da solo con le tnt e siamo siamo tre ecco vedete si mette con la tnt e si fa esplodere con tentare in aria da solo che bello guarda come si fa a prendere il tnt e infatti forse dal creeper e può essere vedi voter anche visit a chi no a no cosmetic gadget tnt si ce l'ho anch'io la tnt e non ce l'ho la tnt dentro la chest forse le devi comprare gadget devi andare in gadget tipo ci stanno i fuochi d'artificio a no eccola qua facciamo fuochi d'artificio che bello questo gioco io direi di cambiare server ma andiamo solo perché torniamo indietro e andiamo su un server che abbastanza pieno dobbiamo aspettare dieci secondi ecco ti stanno lanciando in aria porca miseria dove sei entrato no ancora no al server 4 dai che pieno sono 13 su 14 il colore scegliamoci subito un colore ci sei eh si sto entrando adesso 4 vai dove sarei colore blu no è entrato uno eh ah sei pure tu blu vedi la mia scritta com'è blu no la tua è rossa come è rossa eh si oh madonna siamo contro ok è iniziato ok c'ho le bombe si devi lanciare si ma vuoi vedere che mi faccio saltare in aria da solo oddio mi sembra che è quasi impossibile quasi che cavolo è la gente oddio ho preso proprio una bomba in faccia sono morto ah 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 in pieno volto io sto boh io sparo un po' di bombe a caso dove stai? eh sono da dove son partito cioè all'isoletta quali ah eccolo l'a1 lo riempio di bombe le ho finite si poi si 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 ricarica si si no ma stai anche tu nei rossi perchè nel blu non ti vedo eccolo qua s hd porco giudo ho finito le bombe dai caricami le che ce l'ho eccolo lo sapevo morteeus non ti trovo e son morto adesso ah anche tu vabbè allora aspettiamo tempo che ci ha messo tre ore a ridarmi le tnt ecco l'ho me l'ha sparato hanno vinto i rossi però abbiamo vinto noi ok noi scegliamoci subito un colore vado per i rossi come iniziamo rossi c'è il rosso ecco ci sono 7 player io che nome ho scritto sopra a vedere sei azzurro addio 7 su 7 prova entrare io ce l'ho io ce l'ho ce l'ho rosso ah e non mi fa entrare nel nell'azzurro vabbè giochiamo con contro no perchè vabbè forse qualcuno ha cambiato idea no cambia idea eh sto continuando a cliccare sull'azzurro ma niente ancora rosso si sa ancora rosso eh siamo contro su un'astronave che bello ah porco giuda volano tnt qua oddio la tntf no madonna no non è possibile le lancio sono già morto sei vivo tu so caduto giù ah stavo venendo a controllare con no sono caduto giù come un demente certo che proprio stiamo facendo delle partite bellissime vabbè dai dobbiamo prenderci ancora la mano la testa andrà meglio sicuro guarda chi vincerà noi i rossi o i blu si accettano scommesse questa mappa però c'ha un bug un piccolo bug se ti metti all'esterno proprio all'esterno eh cioè dietro diciamo alla barca se uno e l'altro sta pure all'esterno non si lascono colpire entrambi perchè non arrivano le tnt bad vinto di nuovi rossi dobbiamo sperare che qualcuno esce e io entro in un'altra squadra tu sei rossi prova a entrare nei rossi dove hai? qui zero zero andiamo nei rossi arrivando in corsa è più veloce che posso no sono in due eh no sei ancora azzurro pure tu sei azzurro sono azzurro? si sei azzurro ma io ho cliccato sul rosso vabbè eh no ma tu sei rosso però no adesso sei adesso sei azzurro ok ok allora sono uscito ad entrare negli azzurri io sono azzurro quindi si 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 sei azzurro cazzo rosso che cacchio è che fa sto rumore? ah c'è un drago c'è un drago c'è un drago ok 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 ci siamo eh ti vedo ti vedo fai marcio indietro vieni vieni no ho lanciato una una mila così a casa allora quello là è sopra vabbè posto in continuazione no mo devo morire a fuoco ma mi uscire ma dai mi sono caduto in acqua mi sono bloccato porco eh capita no io voglio rampicare la sopra non ci riesco oddio delle tnt a fiazza sono morto ma io sto cercando tutto il tempo di trovare una posizione alta e muoio nel frattempo mi sa che devo giocare direttamente scappare e lanciare bombe basta quanto vuoi scommettere che vincono i rossi? eh vediamo gli azzurri quanti sono? uno uno è morto adesso in diretta morto in diretta esatto ne è rimasto uno eh sì basta vincono sempre i rossi gg quindi adesso non dobbiamo accedere il colore siamo nella stessa squadra credo colore sei fa vedere rosso tu io sta a posto allora vinciamo questa la vinciamo dai speriamo questo si sta bruciando ho messo anche la musichetta ho un po' di musica place che balla qui perché esplode eh sì è piena piena e metta io lancio le tnt prenderlo un po' la mano no non me le fa lanciare più quante ne facciamo? vai penso che altre due come minimo dai ok no questo è quello che non sopporto lì solo che non mi piace che non c'è niente ah non lo so io qua è esattamente la prima volta che sto facendo oddio il tnt oh porco giuda sono nell'acqua sto morendo oh merda sono caduto anch'io sono morto porco giuda sono caduto in acqua anch'io ma subito sto dicendo che è proprio la prima volta ma veramente che faccio sto gioco qua quindi come muovermi come sparare dove sparare no sinceramente questo è uno dei giochi che preferisco però non è che ci giochi sa quanto sì che poi anche io non è che ho fatto chissà quanti mini poi che avevo fatto uno con un altro mio amico che è sempre su youtube sì delle pecore cioè che dovevi trasportare una pecora che poi mangiava e si allungava ah no che dovevi trasportare ho capito tipo cattura la bandiera esatto esatto bravo sì sì quello pure lo ci ho provato sono una schiappa incredibile perdo sempre infatti no quello l'ho registrato il video infatti l'ho caricato quanto sono due rossi contro due due ma due contro due no uno il blu ne è uno solo due contro uno due contro uno non usciranno i nostri amici sono due azzurri adesso è uno rosso ah sì questo è qua in alto non l'avevo visto perché è qua in alto che fa tipo da faro ah l'ha preso no è riuscito a scappare attenzione il rosso l'ho ucciso eccolo il rosso l'ho ucciso uno contro uno sfida vincente diretta attenzione quello che spara a casa ah forse voglio distruggire tutta questa zona qui a destra per non farlo scappare più però nel frattempo il rosso lo sta mirando no vai via che sta esplodendo eccolo qua ha vinto il blu l'uomo nero l'abbiamo perso l'uomo nero ok penso che siamo ancora di uno nella stessa squadra fai vedere sì sono sono blu no tu sei rosso io sei blu vado nei blu sei rosso no io azzurro sì volta siamo contro contro eh sì purtroppo sei rosso sono rosso sì sono entrato no eh ma tu sei azzurro però eh eh ti facciamo come questo aspetta va a vedere sono azzurro eh no sono azzurro io pure io eh no tu sei rosso sì sei azzurro tu ah 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 vedi se riesci a entrare al blu niente cinque quattro tre due uno partiti ti immagini se rimaniamo solo tutte e due male allora qua dove siamo sempre su una barca questa mi piace è iniziato io fammi scappare un po vediamo un po' di bombe insomma a caso ok no no c'è una bomba porco giuda sta andando c'è le bombe oddio meno colpito ovviamente sono ancora vivo pure io scappa scappa sta esplodendo tutto non devo cadere in acqua perché se no muoio da solo sono caduto giù oddio ero caduto ma porco sono riuscito a risalire mega galattico sono caduto no ho quasi colpito no manneggia ci stanno stessi cosi davanti non mi fanno colpire vedo delle tnt che mi passano in aria vaffan tripolo mi ha colpito chi è uno contro uno giusto si c'è quello dorato là contro quello rosso esatto no sono due rossi i signori in stiva signor rossi ah no c'è un altro di colpo a quello dorato c'è un altro qui sopra si era nascosto quello là si è nascosto che culo che culo l'ho lanciato qui sopra l'imbalzatore gli è andata a finire direttamente in testa vai facciamo l'ultima dai ok speriamo insieme che colore sei? o meglio che colore sono io? sei azzurro vediamo se riesco a entrare eh sono quattro in coda 4-4 e anche per quest'ultima sfida siamo contro purtroppo si io lancio i razzi oh un po' di fuochi d'artificio perc artificie ne ho altri 25 vai spariamo posso avere anche l'enderfell madonna dove ci stai andando? via eccolo qua ok il castello che bello che bello ok 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 sto qui sopra che lag una botta di lag che sono morto allora vediamo se da qua riesco a sparare a qualcuno sei rosso eh oh ti stanno colpendo carica me li e tnt carica me le parta dai spara porco cane oh ma colpito uno attenzione cambiamo me l'ho trovato dai da un'altra parte ma sei blu no sono rosso no sei rosso assolutamente vincere questa nuova sfida ecco ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo ah 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 k attento ti arrivo delle tnt sul lato ce n'è uno proprio di fronte più in alto ho sbagliato mica sulla sinistra le l'ho tirato giù da carica me le tnt dai aspetta te ne carica di più infatti adesso sto facendo un po' il giro quanti siamo? allora siete due rossi contro un blu no due blu due blu scusami uno sta salendo in alto l'altro sta dietro proprio dietro da tutta la mappa c'è anche il rumo nero nel blu quello lì che prima ha vinto stanno vicini stanno vicini se li vedi bravo bravo uno ho preso l'ho preso no 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 non è caduto sta scappando eccolo lì si è buttato giù nell'acqua è morto è andato nell'acqua è morto muori siete solo incontro l'uomo nero vado di là soli contro l'uomo nero fare il giro largo preso eccolo qua red e riesce a resistere per quest'ultima sfida grandissimo una vittoria almeno l'abbiamo fatta quindi ragazzi io come sempre vi invito ad iscrivervi la pagina facebook e quella di google plus e a lasciare un bel like e un commento da Zerk e Mike è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ragazzi ciao a tutti ciao a tutti